Benvenuti in questo nuovo video della scazzocraft una cosa prima di iniziare il video a parte di lasciare un like lasciate adesso un bel like arriviamo al 700 perché so che possiamo vi devo dire che il video risulterà lungo perché non ho tempo di tagliarlo in quanto domani devo partire e devo preparare 5 video non ce la farò mai scusatemi per questo ma spero che possiate apprezzare lo stesso lavoro quindi vi lascio all'intro da Marcia è tutto, bella Marci burlone bella a tutti ragazzi sono Marci per questo nuovo video della scazzocraft insieme a Dani e ciao e non voglio i tre stimoli di Geova Marci in casa fammi entrare in casa no 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 ragazzi come tutti i video iniziamo subito con le citazioni la prima è di Eppie le citazioni che non sono citazioni ma sono insulti barra frasi in dialetto vostro la prima ci dice Pierluigi Chiarello e si dice va caca a mare cutetsun palacuan culu che bello penso che sia una cosa che è pugliese questo qua e si stavo dicendo infatti perché è Channel Music ci dice Dying Lion e Marci son roi pro ramorte yo è bellissima poi c'è Daniele Murgia che dice filibagassa filibagascia ok Giuseppe Emanuele pipiscia pispiscia ho chiumeticini nabisazza ma sempre cucuzza yeah yeah siciliano bello zio proprio c'un po' sei poi c'è Revirix che dice sono leccese e se sinti scemu col coricino oh che vero e poi c'è una ragazzi è doppia è napoletano mi sinti vai mi sinti t'apposto t'appo cheat gomorra oh ah gomorra è intanto togliamo la labbra ok ragazzi in questo episodio dobbiamo andare a prendere della 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 sabbia sabbiose per fare il sotto ma come la prende la sabbia se non ho niente per prenderla e ti devi craftare ah poi io c'ho del legno come si craftano le pale ok l'ho fatto oh mio Dio sono pronta andiamo a craftare no ti chiudo dentro ha ha oh mio Dio mi stavo buttando giù vai oh no ti ho mancato oh che buono ma oh io la prendo io con la sabbia lì no la vedo io ahhh vado io perchè sono pronta vediamo a chiacchere la prima vediamo oh prendi le pecore io prendo le pecore che c'ha il la la sword ma non serve a niente perchè abbiamo già non c'ho eh non ce lo di dopo la vado a prendere ma ce l'avevi in mano prima eh no la spada mi stavi ammazzando ah la spada per ucciderla eh si no poverina non uccidiamo le pecore oh mio Dio quanta sabbia c'è in questo pianeta boh io te la prendo e poi te la prendi anche te quanto ce n'è fino a qui puoi andare poi dove ti faccio il confine non prendi che sennò ti scendono ok ok fammi il confine il confine della pietra azzura ok intanto ho da prendere il confine della pietra vabbè io le ammazzo così le pecore aspetta te la do io la spada no no aspetta facciamo un recinto oh ci sono i conigli oh facciamoli scopare come i conigli no facciamo tipo un recinto qua e prendiamo tutte le cose del mondo cosose no c'è l'acqua ah aiuto i ragazzi nei commenti visto che noi scriviamo sempre qualcosa di ososo oggi Dani ci ha detto cosa cososa scrivete cosa cososa nei commenti ok hai capito guarda lo spider che di giorno non fa niente cioè normale brightly no 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 TO ma hai tolto tipo 25 cuori e mezzo virgola 7 c'ho Nossa Oh ecco a a a a a ce non lo so dobbiamo fare tipo il ponte poi rega la buttata piena ok adesso l'ho svuotato aspetta ma qui ci vogliono delle torce io devo torsificare quella zona torsificare tutto quanto perché siamo Non si vede niente Togliamo sta cosa qua sopra Poi che fa ombra Ma la tolgo io Questa cosa che abbiamo messo qua sopra Che è inguardabile Eh ma serve, tu l'hai messa poi tra l'altro Si lo so ma la togliamo da qui in poi Da qui in poi Adesso toglie anche la casa Ma va non lo faccio con i comandi Che ragazzi ci avete chiesto Come che facciamo a fare certe cose Ah è un plugin normalissimo che permette la creazione Di sfere, piramidi Dani Piramide Di neve Dobbiamo fare una piramide di neve poi No la piramide di neve è brutta Ce l'hai di ferro sta cosa qua La pala Stai dividendo Oh mio dio Vediamo com'è da giù almeno così Aspetta fammi togliere anche un po' qua Che bello che è Io mi sto togliendo la terra da sotto e sta scomparendo tutto Mi sento Ma dai Che pirla Infatti Che peraltro Qui sarà già secondo me molto meglio Mi metto anche la te Eh infatti Così c'è un'altra cosa Varci Cosa c'è? Cosa c'è? Niente Oppure che hai fatto qualcosa che non dovevo vedere Dani Niente Cosa stai combinando Questo sta facendo Dani Oh 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 Ti riesmi di patte e ti sf把它 Madonna Oh ma questa è lotta È lotta all'ultimo sangue Chi vincerà? Vuoi fare una lotta all'ultimo sangue? No 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 no, ok va bene così, abbiamo concluso Ho vinto perchè se non vedi... Devi togliere anche qua Eh sì, devi... l'erba del devi non cresce neanche nel giardino dei bambini miei No, aspetta, forse qua... infatti non ne era da togliere Hai messo a cuocere la sabbia intanto, scommetto di no, se è un pirla Iii Ultana Ah, li hai messo? Poi è a posto Che sono stupido Ne metto altri di qua Tanti che l'ho messa Ma mettiamole... Mettiamole... C'è tutto full no ma metti come cacchio si dicono non le cover le erbone zio cane come si dice il vetro com'è che lo mettiamo mettiamo i pannelli o mettiamo tutto ah no no normale che è più bello si però qui dobbiamo mettere le cose fatte meglio porca puttana ho già sbagliato così ma io sto laggando come i cani bastonati che bielo c'ho 1044 di ping la risposta è si che bielo ma è una cosa bielosa ritornati ragazzi ora non lagga più ma un culo mi sono spaventato mi stavo grattando la ciolla mi stavo e tu sei qua cos'è che sto ragazzi scriviti nei commenti hashtag danni non mentire dai non ti grattare alla ciolla volevo dirlo però ho detto tanto lo dirà danni infatti l'hai detto schifoso allora mi piace sta entrata dobbiamo mettere adesso bene le ceste danni i frame ce li hai te è vero? si ma fa un cagare i frame frame ma mettiamoli tipo ma ci stava come l'avevi fatto cioè mettiamolo sopra la chest così apriamo dall'altra parte guarda vieni qua allora l'erba del vieni te l'ho già detto che non nasce per cortesia potresti venire dalla mia parte per cortesia per cortesia apro della morte vieni qua per cortesia apro della morte puoi entrare da questa questa porta ecco come è stato mettere i youtuber più grandi di te entra dai muoviti guarda se facciamo così dai cosa è sta roba? ci sta apri di fianco e via no ma no mettiamola sopra eh già così sta meglio però solo uno non tutte e due eh sì ma possiamo mettere no mettiamoli tutte e due sì sì adesso andiamo a farmare un po' di mucche a farmare un po' vabbè hai della andiamo a farmare andiamo a farmare a qualche dimmi tu dimmi che hai i letti per cortesia dimmi che c'hai i letti sì ho i letti allora metti sti letti vicini vicini io ne ho uno io ne ho uno iii xd ma perché hai messo sto legno ma sei gravido? dove? che c'hai? vieni a dormire perché i frame stanno volando? i frame volano ah no sta laggando ti muovi? cosa sta succedendo in questo pianeta laggoso? fai una cosa esci dal server un attimo che dormo porco la sciaia cosa fai a 90 tu? aspetta un secondo qua c'è un altro letto dove è andato l'altro letto? ma non rubarmi i letti perché hashtag ma aspetta ma abbiamo dormito? come? che? ma sta succedendo ma c'ho paura è giorno eh non so perché ah il plugin è vero forse è per il plugin però Dani qua manca luce facciamo tipo un'apertura anche di qua dimmi che tipo di qua si esce dopo un po' ti prego oh oh Dani guarda qua mettiamo anche il vetro qua va bene facciamolo anche qua facciamolo più grande quindi sì 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 facciamolo più grande allora grande come il mio bene no dai ragazzi cioè non ci dicono con calma perché qui Dani sta un po' esagerando sta un po' esagerando e sì ma io non ho voglia di scavare dai scavare stai zitta aspetta mi dai la pala tu c'hai la pala? bravo che c'è la pala in ferro non romperò le pale le pale questo era oscena Dani era insentibile eh no eh sì aspetta dov'è che finisce devo andare fino in fondo che bielo guarda qui che bielo oh guarda che carino che è il mio pene dai smettete di dire queste cose Marci eh Dani tu ti stai un pochino allungando un po' tro eh sì Marci lo so lo dicono sempre ho sbagliato ho sbagliato aspetta ti si è rotto qualcosa vero? mi le palle ce l'hai il vetro ancora te con te lo sai che ho detto? sì sì ce l'ho io ok di qua abbiamo combinato un bordello abbiamo devastato ogni cosa dove? io metto il vetro metti il legno dove vuoi che lo metta cioè io intanto metto il vetro lo mettiamo qua no aspetta 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 sto fermo no 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 sto fermo non ti preoccupare non faccio niente ferma che se no ti sbordo negli occhi ma qua dobbiamo fare pure le scale ce l'hai il legno Dani ce l'hai il legno invece di stare qui danni ce l'hai il legno danni ce l'hai il legno ok grazie solo sette pezzi sicuramente me ne faccio tanto dammi anche l'asce per favore dammi anche l'asce per favore dammi anche il mio pene vieni qua no dammi il tuo pene no quello no Dove sono le berce? Ma no, usiamo il legno scuro che ci stava per fare le scale No, usiamo il legno chiaro, bisogna aver cominciato a usare il legno chiaro E io ho capito, non so dove sono le berce Le berce? Le oak Questo è birce che mi hai dato Ah, ma no, scusa, vieni qua, ti do quello normale, vieni qua Quanti ne hai? Voglio fare le scale Ma lì c'è un altro oak, un albero gigantesco là davanti ai tuoi occhi Vediamo se con 6 ce la facciamo Ma voglio fare tipo le scale scalose in slab qua Ma dove? Qui per scena E lasciamo un po' di terra però, perché se no fa cagare Un po' di terra Oh, sono caduto Qui mettiamo la terra Mi pare se vuoi terra io ne ho No, no, ci sono posto con la terra E anch'io Oh mio dio qua che bello questo posto Oh mio dio qua che bello Va che roba Bellissimo Di 1 a 1 Mi serve della cazzo di legna Di legna quella cazzo Di legna, quella cazzo Proprio così Because I don't live without my Qui dovrebbe diventare tutto cos'uso Qui dovrebbe diventare tutto cos'uso vero Yep Oh va che bello Io vado a prendere la legna Vado a prendere la legna Che è qua Tu che non la vedevi Puttanella Ma non ho fatto abbastanza Isola Cane maiale Sai che l'altra volta hai mai dato il cibo che avevi? Tuoi cibo ancora Sì Io ne ho 2 stack ancora Come 2 stack? Perché tutto? No, 2 stack no Però... 30 pezzi Sei un cheater sei XD No Ho ucciso più mucche Non ci sono più mucche Non ci sono più mucche in questo caso Ragazzi penso che una cosa su cui non dobbiate mai dubitare è che Dani citi Io non cito mai nelle serie vanilla Una volta ragazzi gli feci Dani vabbè la cobblestone possiamo prenderla E lui fa No, noi non citiamo Noi non citiamo Le citazioni che stiamo facendo Ok Dani qui penso che possa bastare così le scale Figata I don't know I don't know Vuoi che scendo fino in fondo? I don't know Eh? Vuoi che scendo fino in fondo qua? Cazzo ne so, si No ho sbagliato Questo non da mettere Allora fai conto che io sto prendendo alcuni oak plenty perché Non so che cazzo sono gli oak plenty No sapling Perché così ci avviciniamo alla foresta di puttanelle perché non ci voglio Ok vabbè poi questo lo finisco off camera che adesso non ci voglio Ok UNA MELA Prendila che è importante la mia Dire il vero o no però Oh mio dio che be- Sai cosa dovremmo fare noi? Cosa dimmi dimmi noi La coltivazione di ganja No di roba E la roba da ganja è la stessa cosa No la roba di cibo intendo Ok Sei molto fraintendibile ogni volta Sono molto fraintendibile Hai preso sto oak che finiamo le nostre scale in questo episodio? L'ho preso l'ho preso L'ho preso l'ho preso l'ho preso 18 stack di oak Dio oak Dio oak 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 Il professore Il professore Il professore Certo che sopra c'è una cappella E sotto c'è il legno Va bene Noi sappiamo fare le costruzioni belle È vero Sopra c'è la ne- C'è la neva C'è la neva C'è l'ho preso l'ho preso L'hai detto più volte te che in tutte le volte che si poteva dire in tutti gli episodi che abbiamo fatto finora Ok era un po' lunga come qua XD1-1 Ok Allora qua si fa così Poi si mette taaaaaaanto vetro C'abbiamo tanto vetro Cosa hai fatto? Eh ho basso la terra dove non dovevo metto Vabbè tanto ne ho basso Pensavo non avessi registrato se stavo già svolando No no sai che quando ho registro con te Ormai registro con action di fiamme C'è con C'è con Ups di vengo perché oppure che mi uccidi un giorno Aoha Aoha Abbiamo quasi finito il vetro questa cosa non mi piace Ok Ce l'ho io il vetro c'è una 55 pezzi L'ho preso prima lo vuoi? Cazzo l'ho fatto decentrato Aspetta un secondo Ah no Dani Danoso Orcon AHHHH La cosa bella ragazzi che ci chiedete è il video di 20 minuti Però noi 20 minuti in vanilla non sappiamo come gestirli Perché Perché no C'è lo scorso episodio ragazzi era 33 minuti di video E avete visto 15 e vi siete lamentati Non vi lamentate Cioè prendete e amateci per quello che facciate Oh dammi sto legno che ho bisogno delle oque Che poi concludiamo l'episode Oh niente hai capito proprio male Per favore mi puoi dare le oque? Però della morte Ia 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 Così va meglio? Tre pezzi me ne hai dati Oddio potevano anche bastarmi se era poco ma non mi va Allora poi qua facciamo così Ok io ho 60 slab piccolo nemico Siamo di slab Me ne devo fare No no le slab per me a posto No ma io devo farne per me Ma ti piacciono le scale così almeno? Le scale così? Si mi piacciono Credibile Oh ma che cazzo ne hai fatte? Eh? Così? Ma no le hai fatte troppe Beh dopo ci penso io cosa facciamo Le facciamo tutte storte adesso Si si dopo le facciamo tutte storte Ok ok però ho in mente una cosa strafiga Ti lascio fare Che ho visto Che ho visto da qualcuno Perciò Per questo video è tutto Dopo 30 Aspetta 23 27 minuti di registrazione è tutto Da Marcetani è tutto Bene Ciao a tutti Ciao Pam 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 pam